Un dato su tutti, oltre 41.000 chiamate al numero di emergenza 112 significa la necessità da parte della gente di un sostegno, lo trova sempre, dice il colonnello Alessandro Andrei, nell'arma dei carabinieri. A Trani da sei mesi sede del comando provinciale il bilancio è positivo tra attività di prevenzione e di repressione, l'impegno è a fare sempre di più. Perché il territorio ha bisogno di più presenza, ha bisogno di più attività, ha bisogno di più approfondimenti, ha bisogno di più riscontri e di un'attività di contrasto più qualificata sia nel quotidiano della prevenzione che nella repressione e nelle investigazioni. Diverse le operazioni di contrasto alla criminalità, 361 gli arresti, oltre 600 i sequestri di droga, risolti i fatti di sangue che hanno allarmato l'opinione pubblica, delitti in ripresa dopo il fermo del lockdown, diminuite le rapine in provincia. Cioè il fenomeno che preoccupa maggiormente è quello dei furti d'auto, vera e propria piaga del territorio. Ci impegna molto a livello investigativo e a livello repressivo. Quest'anno abbiamo avuto la possibilità di raccogliere anche risultati sotto questo profilo, sotto il coordinamento della procura di Trani, che comunque ha un'attenzione speciale per lo specifico fenomeno, proprio perché non è un fenomeno improvvisato, ma è un fenomeno che, benché non sia un fenomeno di carattere necessariamente mafioso, ma è un fenomeno che comunque per la sua struttura presuppone un'organizzazione e una professionalità criminale particolare, per contrastare il quale inevitabilmente c'è bisogno di approfondimenti investigativi più complessi e dedicati.